bella a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovissimo video sono tony rossanero e sono qui insieme a gapmanu che ovviamente saluto che è qua nella gara ragazzi sicuramente in un'altra parte è a croberto ovviamente ragazzi ovviamente la gara è pure di francesco un elenco partite saluto anche francesco ovviamente e tutti i membri della mia crew ragazzi partiamo con questa gara ragazzi l'ha fatta francesco non so la scaricata francesco nel social club ovviamente spolliciate se vi piace la gara e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto maria ma che abbiamo qua mamma mia maria no ma vaffanculo siamo in seconda penso maria ma che abbiamo maria oh ma che mamma mia il cino della volta abbiamo fatto praticamente mamma mia ragazzi bella gara quanti gira abbiamo due ragazzi siamo al secondo giro ragazzi mamma mia è tutto praticamente ragazzi è tutto il tubo siamo in terza posizione ovviamente gap riconquista sempre le posizioni ovviamente è grandissimo me compare gap un saluto mando sempre quella ciao gap mi superò gap ragazzi leggenda davanti a noi ragazzi ovviamente ciao francesco ovviamente ti saluto mamma mia ma che abbiamo mamma mia ma che abbiamo un saluto francesco un saluto francesco e ci ha salutato francesco col cladson ragazzi giriamo questa macchina signori e concludiamo in quarta posizione ragazzi molto bella ste gara ovviamente ne andremo a fare un saluto francesco ragazzi e qua ragazzi pronti per fare la seconda gara ovviamente ragazzi questa volta c'è gabmanu ciao ragazzi ecco ecco roberto ragazzi ovviamente un pollicione francesco mi stava facendo il pollice ovviamente ovviamente black mamba ci invita ragazzi 3 2 1 e si passi mamma mia gab un commento per nella gara precedente non so tu che non c'eri hashtag golino vada a bianca non ti sento comunque hai capito cosa siamo in seconda posizione con gabmanu ragazzi mamma mia abbiamo croberto ovviamente e roberto vacca chi ovviamente sono in seconda posizione quello mi stava superando ma è sbandato ovviamente olè mamma mia signori olè mamma mia tutto perfetto ovviamente nooo non ci credo non ci credo nooo non ci credo nooo non ci credo e roberto è in prima posizione ma perché c'è bisogno che lo dico io scusami sì sì ovvio no dopo 10 anche tu stesso io non sento niente ma sei tu l'autore del video ehi prendiamo il get point mamma mia ragazzi sembra una cavolata però siamo ultima posizione mamma mia ragazzi recuperiamo le posizioni beccato beccato era in prima beccato che era in prima beccato beccato e vabbè ciao gabbo facciamo il secondo giro ragazzi ovviamente ragazzi e iscrivetevi al canale ovviamente e sbolliciate se ti piace la gara come sempre metterò sempre in descrizione ogni canale dei miei amici ovviamente roberto anche ricordatelo ricordatelo non sapevo che avevi un canale sei riciscritto e non lo sapevi Tony no eccoci qua ragazzi pronto per fare di nuovo il tutto e questa volta facciamo mamma mia la backflip bellissimo quarta posizione ragazzi Francesco è dietro di noi non lo so se ha fatto la infatti è qua con noi ragazzi facciamoci un colpo di classo ovviamente mi schianto con tutto guarda Roberto è stato ovviamente un classo anche Francesco ce lo manda fa dire le bestemmie non mi schianto non mi schianto mamma mia ciao Francesco che ti mando un bel saluto che ti mando un bel saluto signori è sul passo incredibile mamma mia non ce l'ho fatta francesco francesco ovviamente prende i pali di petto mi dispiace per francesco ovviamente l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta seconda posizione per toni terza si batte contro il tempo chi raggiungerà il secondo podio mamma mia Francesco ci sorpassa peccato ragazzi peccato ragazzi spero che il video vi sia piaciuto ovviamente spolliciate iscrivetevi al canale se non l'avete fatto iscrivetevi al canale di gabmano e croberto ve li metto sempre qua sotto in descrizione se volete il link della gara bastate che lo chiedete nei commenti e da qui toni rosa nera è tutto noi ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao